buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv bene oggi è giovedì 5 settembre 2024 sono pronti i giornali sulla nostra scrivania Corriere Adriatico resto del Carlino con cronache locali le leggeremo tra breve intanto noi iniziamo con il santo del giorno attraverso l'almanacco ed eccolo ed eccola qua anzi guardate è una santa universale ormai una santa molto cara al giorno d'oggi santa teresa di calcutta agnese gonze bojaxiu nata scofie in macedonia operante in india che dire non si può non ci possiamo dilungare su quello che ha fatto nella sua lunga vita questa grande grande santa del giorno d'oggi fondò la congregazione delle missionarie della carità suore che indossano il sari indiano fu la dolce madre e sorella dei poveri di cui condivise le sofferenze e le privazioni è stata beatificata da giovanni paolo secondo il 20 dicembre del 2002 ed è stata canonizzata da papa francesco il 4 settembre del 2016 santa teresa di calcutta vediamo ora le previsioni del tempo beh il tempo sta cambiando insomma si stanno avvertendo le prime piccole perturbazioni autunnali oggi generali condizioni di instabilità sulla regione con piogge sparse e temporali intervallate però da ampi e schiarite le temperature sono in leggero calo la minima è 20 gradi la massima 29 i venti sulle coste da sud est nell'interno da sud ovest il mare è leggermente mosso il sole sorto alle 6 e 34 e tramonterà alle 19 e 38 apriamo oggi il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo che l'apertura è dedicata all'assemblea che si svolta l'altra sera nella casa betlem a carrara è un nuovo incontro organizzato dall'amministrazione comunale per presentare quello che dovrebbe essere l'elenco definitivo delle opere compensative che l'amministrazione comunale chiederà di realizzare a terna in compenso di tutti i disagi di tutti i problemi che creerà l'ampliamento della centrale elettrica di carrara e anche il passaggio sotterraneo dell'adriatic link che è l'elettrodotto che dovrebbe unire le marche con l'abruzzo poi passerà entrando in mare a metauriglia sotto l'adriatico vediamo dunque il titolo viabilità opere ambientali e sociali il sindaco trova l'intesa con carrara è stato presentato l'elenco degli interventi da realizzare con i 12 milioni di terna 12 milioni che dovranno essere suddivisi tra carrara e metauriglia a proposito di metauriglia la riunione con i residenti di questa frazione prevista per questa sera alle ore 21 ebbene è un lungo elenco di fronte all'assemblea l'altra sera si è presentata quasi tutta la giunta ma l'elenco delle opere concordate ne sono state poi altre aggiunte proprio nell'occasione dell'altra sera è stato letto dalla vice sindaca loretta manocchi per leggerne soltanto alcune vediamo che ci saranno due rotatorie una nei pressi dello sbocco della viabilità anche quella nuova che dovrà essere creata in prossimità del nuovo presso scolastico di cucurano e carrara e poi una nuova rotatoria all'incrocio con la provinciale che conduce all'alberone sono due punti molto critici della viabilità della parte nord della parte nord ovest diciamo meglio del territorio comunale di Fano e poi verranno realizzati marciapiedi altre opere di carattere sociale l'acquedotto per chi non ha ancora questo collegamento e poi ci saranno anche dunque vediamo la manutenzione straordinaria dei fossi l'ex scuola elementare di carrara che sarà trasformata in una casa delle associazioni per attività ludiche e culturali comunque un lungo elenco un lungo elenco di opere fondamentali sia di carattere sociale che infrastrutturale necessari a questa parte del territorio comunale proprio nella seduta dell'altra sera se ne sono aggiunte altre su ultima indicazione dei residenti tra queste la realizzazione di un terrapieno su cui dovrebbero essere piantate delle alberature per tutelare costituire un diaframma tra la nuova stazione e quindi tutto l'ambaradan dell'elequodotto con le case che sono più vicine alla stazione stessa e quindi soffrono maggiormente dei disagi provocati dalla luminescenza dal rumore dalle radiazioni insomma tutto quello che comporta la vicinanza di un'importante stazione di carattere elettrico vediamo ora le altre notizie al via l'attività degli asili nido l'obiettivo è aumentare i posti ebbene ieri è stato il primo giorno di scuola per i bambini più piccoli quelli da 0-3 anni quelli degli asili nido sono stati aperti gli asili nido comunali della città il primo giorno di scuola il primo giorno di scuola è sempre un giorno particolare c'è chi ha affrontato questa nuova esperienza con le lacrime agli occhi c'è chi invece è rimasto meravigliato da tutta una scatola magica che si è aperta davanti a lui una stanza piena di colori di giochi di attrazioni e c'è coloro che subito si sono precipitati nella nuova situazione ebbene nei primi giorni ci saranno con loro con i bambini più piccoli anche i genitori per una così per un periodo di acclimatamento con la nuova situazione e poi i bambini partiranno per così costituire la loro autonomia comunque l'obiettivo annunciato dal sindaco lucas e filippi che nella giornata di ieri ha compiuto un giro appunto nelle strutture comunali insieme all'assessore servizi educativi loredana mangernino e al dire al funzionario e al funzionario addetto ignazio pucci e dirigente appunto dei servizi educativi per vedere che sia tutto a posto negli asili in alcuni ancora i lavori devono essere compiuti ma lo saranno per cercare di dare a questi ragazzi a questi bambini una situazione ambientale il miglior modo possibile quest'altro articolo invece interessa agli adulti interessa agli adulti ed è un articolo particolare perché occorre fare chiarezza si era detto qualche mese fa che gli autovelox che erano stati posizionati nel rettilineo di metauriglia e nella frazione di cucurano sarebbero stati disattivati e questo in virtù di quello di un caso che era scoppiato a livello nazionale perché c'era un discrimine tra i dispositivi autorizzati e i dispositivi omologati sembra che molti dispositivi molti autovelox non fossero stati omologati e quindi non potevano così verificare esattamente la velocità degli autoveicoli in realtà sembra che gli autovelox di metauriglia e di cucurano siano rimasti in funzione nonostante che l'amministrazione comunale avesse detto che sarebbero stati disattivati e sono fioccate le multe sono fioccate le multe e per fare chiarezza su questo caso c'è una iniziativa del consigliere comunale di Incomune Samuele Mascarin che in una interrogazione dà voce appunto a questi cittadini che hanno avuto le multe dunque questi cittadini segnalano di aver ricevuto anche recentemente multe riconducibili a quei due autovelox di cui abbiamo detto in date successive alla comunicazione della loro sospensione per quanto riguarda il funzionamento vedremo dunque la risposta dell'amministrazione comunale dopo poco più di un mese della morte di Oscardo Severi l'imprenditore di una ditta molto nota a Fano ebbene si sono svolte le finali di un'iniziativa che lo stesso Severi aveva promosso per tanti anni elevandola a livello nazionale Cartonsì. Cartonsì premi assegnati con il cuore affranto con il cuore affranto perché appunto è deceduto da poco ancora è una cosa che duole duole a molta la scomparsa di questo imprenditore illuminato ebbene sono stati comunque assegnati premi a coloro che con le loro vignette con il loro mondo satirico hanno però approfondito i problemi reali del nostro mondo in modo particolare quello dell'ambiente del lavoro della della ricerca di una vita sostenibile e tra i premiati c'è anche un giovane vignettista fanese si tratta di Marco Caverni 26 anni che ha vinto il premio Origone 2024 oppure Origone è un concorso nazionale di umorismo e satira che Cartonsì assegna ai talenti Under 29 il titolo dell'opera è un lavoro pure si trova ed è questo appunto la vignetta del fanese Caverni che viene pubblicata. Autodanneggiate e svaliggiate il sindaco adotti una contromisura e l'appello lanciato dalla Confesercenti è stato Matteo Radicchi il direttore della Confesercenti di Fano che ha messo in evidenza questo problema. Nei giorni scorsi sono verificati molti furti in via 24 maggio nei pressi della zona dell'ex caserma Montevecchio e all'interno del parcheggione della caserma Paolini. Sono stati infranti i vetri delle auto e sono stati rubati gli oggetti che si trovavano all'interno. Alcuni associati della Confesercenti appunto hanno ricevuto questi danni. Radicchi fa appello all'amministrazione comunale dicendo di intervenire, di aumentare la sorveglianza in centro storico con una presenza maggiore di agenti e soprattutto di porre di un sistema di telecamere per così monitorare più da vicino le zone più sensibili, le zone più critiche, quella dei parcheggi per esempio dove si verificano più spesso questi atti delinquenziali. Passiamo nell'entroterra, siamo a Cagli dove si registra un boom di turisti sul Nerone e sul Catria. Ora però bisogna sistemare le strade ed è stata proprio la siccità, il gran caldo ma anche le mucillaggini che hanno un pochino limitato le presenze dei turisti sul lungomare e sulle spiagge e quindi questi ultimi hanno cercato il fresco, hanno cercato una diversa situazione ambientale nell'entroterra. Meraviglioso entroterra pesarese fatto di alture, di dolci colline ma anche di asperità e quindi sono saliti sul Nerone e sul Catria in cerca di una situazione più sopportabile dal punto di vista climatico. La CNA rileva un incremento estivo di visitatori, pensate, del 30%. Sfruttiamo l'onda per l'entroterra che ha bisogno ovviamente di sostegno economico. E un sostegno economico lo dà anche un frutto che è tipico del nostro territorio, quello della pera angelica. La pera angelica abbondante e di ottimo sapore sarà oggetto di una nuova sagra che Serungarina organizza tutti gli anni e sabato e domenica si svolge questa iniziativa. Il meraviglioso borgo di Serungarina, bellissimo, racchiuso con una immagine circolare e conica che fa meraviglia. Ebbene il meraviglioso borgo di Serungarina ospita sabato e domenica la 27esima edizione della festa della pera angelica organizzata dalla Proloco con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Due giornate per celebrare questo frutto che è veramente squisito e si dice che venga mangiato dagli angeli e quindi ecco perché si dice pera angelica. E c'è anche un problema di viabilità a cui il sindaco di San Costanzo sta ponendo rimedio. Auto veloci lungo il corso, allora cosa faccio? Ha detto il sindaco, restringiamo la careggiata all'ingresso della via principale del paese. Applauso sui social alla decisione del sindaco che chiude anche e probabilmente chiuderà anche il traffico ma questo è ancora da decidere. Vedete questa fotografia? Questo è l'ingresso del corso di San Costanzo. Ebbene qui sono stati posti dei restringimenti in modo che le auto qui per entrare nel corso rallentino la loro velocità e quindi diano più sicurezza ai pedoni e ai ciclisti insomma coloro che osservano la mobilità dolce. Terreno pagato senza rogito, Patregnani smentisce e Marcucci. Ancora si evolve questa vicenda a terre roveresche ma è saputo che non c'era l'atto mancanza emersa in comune solo di recente. Vediamo qui i due contendenti, Patregnani e Sebastianelli, insomma il problema che in questo momento viene dibattuto a terre roveresche. Appaiono sbalorditi per le gravissime frasi del capogruppo di minoranza Sauron Marcucci che cerca di scaricare le negligenze e le responsabilità sui fatti venuti, poi sono fatti vecchi, oltre dieci anni fa, su persone estranea alla vicenda. Il sindaco Sebastianelli e l'assessore Patregnani, non sono contendenti, sono tutti e due, scusate, sulla stessa barca, Sebastianelli e Claudio Patregnani replicano al consigliere di opposizione appunto Marcucci riguardo il pagamento nel 2008 da parte del comune di Barchi di un terreno senza però che fosse seguito l'atto, l'atto o il rogito notarile. Veniamo a Senigallia. Senigallia si contesta il ponte Garibaldi, questa ponte che dovrebbe insomma ripristinare i collegamenti sull'emmisa dopo quanto è avvenuto con l'alluvione. Ponte Garibaldi, associazioni contro. Perché le associazioni sono contro? Perché da una parte la Federcaccia si vede abbattere la propria sede e dall'altra abbiamo invece un problema che viene evidenziato da Marco Leon che è presidente di Italia Nostra di Senigallia. Ebbene Leon dice che la realizzazione del ponte porterà all'abbattimento dell'ultimo filare di Pini in via Rossini con lo spostamento più a monte dell'asse con Porta Mazzini. Quindi è uno sbaglio sia dal punto di vista ambientale, secondo appunto Italia Nostra, sia dal punto di vista urbanistico in quanto si rompe la prospettiva che collega appunto le due strade. A due anni dall'alluvione un incontro con Acquaroli è avvenuto a Ostra dove si è fatto il punto degli interventi ed è stato prorogato di un anno lo stato di emergenza. Vediamo anche la pagina di Pesaro come viene aperta dal Corriere Adriatico dove si parla del nuovo progetto che il Sindaco Biancani ha ideato, ha proposto per il lungomare in modo particolare per la situazione sud, quella dal Palla di Pomodoro verso il Largo D'Annunzio. Nuovo waterfront, ok, la pedonalizzazione però è oggetto della contesa. albergatori e operatori promuovono la rivitalizzazione di questa parte delle lungomare ma c'è un po' di differenza sulla ZTL. Da Levante si alza la protesta dei delusi. Noi ancora una volta dimenticati, sì, perché se si fa una cosa a Ponente protesta a Levante, se si fa a Levante ovviamente protesta a Ponente. Si dovrebbero fare le cose in entrambi i lati di questo lungo, lungo, lungo mare. Un viale tutto nuovo, sì che alla riqualificazione della passeggiata, ma con questi distingo. Una buona notizia, Palazzo Aimonino, finalmente i lavori sono conclusi, è pronto il bando per realizzarvi 24 nuove abitazioni. Pandolfi interviene sull'opera di edilizia agevolata in Via Mazza, lunedì sarà reso noto l'avviso pubblico. E vediamo invece un'iniziativa degli ambientalisti che sabato mattina alle 10 raccoglieranno bottiglie, rifiuti e bivacchi sugli argini del Foglia. Una passeggiata ecologica a cui tutti sono invitati ad intervenire. L'appuntamento è alle 10. in modo particolare per raccogliere tutti i rifiuti, in modo particolare le plastiche, che sono quelle che degradano l'ambiente. La passeggiata ecologica realizzata dai volontari di Plastic Free, Fipsas e Guardie Ettiche. Ancora sul Corriere Adriatico vediamo un trend che è positivo, è quello che viene enunciato dal reparto di ostetricia e ginecologia dell'aste numero 1 dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino. Sappiamo che sono due ospedali, Fano e Pesaro, dove il reparto opera, il reparto diretto dal dottor Claudio Ciccoli, che evidenzia come il numero delle nascite sia in aumento. E questo dimostra anche la professionalità di tutto il personale che opera in questo reparto. Nuovi nati, trend in crescita, siamo a più 6% rispetto al 2023. Ci sono anche delle tecniche particolari che sono appunto all'origine di questo incremento, come il reparto in acqua, che viene così scelto sempre più dalle gestanti. La pagina di Urbino annuncia il festival del giornalismo culturale appunto nella città ducale, che poi viene decentrato anche in altre località, questa volta si parla di Pesaro. L'informazione culturale al femminile, eventi off su Leopardi, Licini e Volponi. Quindi abbiamo arte, abbiamo letteratura, abbiamo attualità. Al Via Domenica Pesaro le iniziative che anticipano il festival del giornalismo culturale. E in questa fotografia vediamo la direttrice di questa iniziativa, che si ripete ogni anno, Lella Mazzoli. E allora passiamo al resto del Carlino, dove ugualmente come al Corriere Adriatico l'apertura è dedicata all'Assemblea di Carrara, di cui vediamo un'immagine. Carrara d'oro, Zecchino, pronti, 12 milioni, ci faremo rotatorie e l'acquedotto. Precisiamo che 12 milioni al momento è la somma totale che Terna si è dimostrata a concedere al comune di Ufano, che dovrà essere suddivisa con Metauriglia. Comunque la più grossa fetta dovrà essere così impiegata in quella di Carrara, che subisce i problemi maggiori, il degrado maggiore, perché lì c'è proprio la centrale. E poi solge un problema anche per quanto riguarda le antenne. Le antenne della Ilia, di modo particolare a Metauriglia, i cittadini si mobilitano perché sembra, come ha evidenziato il capogruppo consigliare del Partito Democratico, di cui il primo firmatario di questo documento che verrà presentato in Consiglio Comunale è Dimitri Tinti. Ebbene, Tinti fa da portavoce, insieme appunto ai suoi colleghi del gruppo consigliare, delle proteste dei cittadini di Metauriglia, i quali ovviamente non vogliono questa nuova antenna che dovrebbe essere installata da Iliad, in quanto non è affatto prevista dal piano delle antenne che è stato approvato dal Consiglio Comunale della tornata amministrativa precedente. Quindi si cercherà di verificare se tutto in questo momento è regolare. Autovelox non omolegati, multe valide. Dopo la sospensione dell'invio dei verbali, una sentenza ribalta tutto. Ser Filippi, presto l'incontro in Prefettura, ma Mascarin interroga, insomma anche l'amministrazione comunale vuole capire se rimanere attivi gli autovelox in queste due località è legale o meno, se no al momento i cittadini o non devono pagare o dovrebbero essere restituite le somme già pagate. Ma è ancora tutto in alto mare. La banda del Cuscotto, anche l'ex caserma. E questo è il frutto della denuncia della Confesercenti per quanto riguarda i furti e i danneggiamenti che sono stati realizzati ultimamente appunto nel nostro territorio. Concludiamo la nostra rassegna stampa con la Festa della Pera Angelica, di cui abbiamo parlato. Un bel appuntamento per il prossimo weekend. Grazie per l'ascolto e a risentirci.